E moriti, no? Più? Eh Ciao! Secondo le regole del mio amico Francesco che scattare una foto bella ci vuole una bella ragazza o anche un meraviglioso tronco di legno. Quattro le regole del mio amico La luce della regola del mio amico Quattro le regole del mio amico Oh, che! Oh! Che cosa è questo? Oh, che cosa è? Che cosa è? Che cosa è? Che cosa è? Ok, Mr. Jones Oh, sì! Yes! Very wonderful!